Allora ragazzi, nonostante la preoccupazione che serpeggia a Firenze per questo mercato immobile della Fiorentina, mercato incomprensibile della Fiorentina, mercato che, perdonatemi, ma lo dico, è in autofinanziamento, ebbene sì perché non c'è versi, altrimenti avresti già concluso tante operazioni di mercato, c'è tanta fiducia in questa Fiorentina perché noi tifosi siamo fatti così e soprattutto io sono fatto così, quindi sono fiducioso, è una fiducia preoccupata la mia ma è fiducia, tra l'altro è talmente tanta fiducia che domani me la vado a vedere contro il Montpellier in casa, in quello dello stadio di Davide Astori, voglio vedere i volti nuovi ma di volti nuovi sarà soltanto col pane che ancora non ho avuto modo di vedere perché Ken l'ho già visto, sono loro due gli unici colpi nuovi che abbiamo in casa della Fiorentina e quindi domani sarò della parca a vedermi questa amichevole, quindi nonostante tutto sono vicino alla squadra e vi chiedo anche a voi di essere vicini alla squadra ma oggi facciamo un po' di polemica, eh sì oggi facciamo un po' di polemica perché questo è un autofinanziamento, qui è un mercato autofinanziamento e non mi raccontate balle perché è la realtà dei fatti. Prima di andare nel merito di tutte le trattative e dell'accessione di Nico Gonzalez che vi dico che secondo la mia logica che tra poco vi espleteo verrà ceduto, in un modo o nell'altro Nico non farà parte della Fiorentina il prossimo anno, vi invito a iscrivervi a questo canale se l'avete ancora già fatto, questo canale di Mr. Viola fa si parla di Fiorentina in maniera verace, anche in maniera logica, perché comunque sono un amante del calcio, quindi critico in maniera costruttiva e non ammazzo tanto per ammazzare e non mi esalto tanto per esaltarmi. Attivate la campanella ovviamente per non perdere i miei contenuti che sono relativi al mercato e a tutta una stagione da vivere insieme, come sempre un like per farmi capire che apprezzate i miei contenuti, in descrizione Instagram, Facebook, TikTok sono i miei social, cliccate nei link e seguitemi nei rispettivi canali, come sempre trovate gli amici di Space Viola, rispondete a questo cosito, è un'ambizione ridimensionata nei commenti di questo video e poi aggiungete le vostre valutazioni qualora vogliate sul mercato della Fiorentina, ma come sempre è importantissimo, condividete questo video, questo canale e tutti i miei social con i vostri amici e tifosi di Viola. Allora, è un mercato in autofinanziamento? Sì, perché la Fiorentina è costretta come sempre a vendere per comprare, non raccontatemi, balle, si vende e si compra, se non si vende non si compra, punto e basta. La Fiorentina è sempre stata una squadra fino all'anno scorso che pagava tutto e subito, da quest'anno si è capito che il giochino non può essere fatto più, perché i soldi sono quelli che sono e quindi si fanno i prestiti onerosi con obblighi di riscatto o con diritto di riscatto, quindi si va a fare una trattativa che poi ti porterà a fare qualcosa nel futuro e quindi a metterlo nel bilancio in futuro. Finalmente la Fiorentina è entrata in questo loop. Il problema principale è che però la Fiorentina la stanno prendendo tutti per il collo, perché? Perché sono consapevole del fatto che oggi non tu c'è il centroampo, è questa realtà dei fatti, e quindi tutti i centroampisti ostano all'ira di Dio. Allora, partiamo in maniera molto veloce e schematica, partiamo dalla porta. Paladino l'ha bello detto, Terracciano e Christensen non sono per me due titolari, l'ha detto in maniera molto educata ma questo è il succo del discorso. La Fiorentina è consapevole che c'è un problema portiere, la Fiorentina vuole De Gea, sta lavorando per De Gea, sotto traccia si è informata per Kepa, il nome Turati può essere accostato ma non piace alla perfezione, il nome Musso viene collegato ad un'altra operazione di mercato che riguarda Nico Gonzalez, che secondo la mia logica verrà ceduto in tre opzioni. quindi diciamo che De Gea, fermo da 12 mesi, non ha trovato squadra, è inattivo, probabilmente da una stagione intera, è il numero uno della Fiorentina nell'ottica del mercato da mettere in porta. De Gea è un nome internazionale, ovviamente classe 90, non è più un portiere di primo velo. Sì, nel senso, se è richiesto da Palladino a me va bene, nel senso ok, Terracciano è un portiere affidabile, il problema della porta è che non viene considerata come problematica primaria, nel senso, abbiamo Terracciano, comunque vada io in porta, ho un portiere da mettere, che l'anno scorso ha dimostrato affidabilità. In questo amichevole non tanta, ha fatto qualche errore, pesante, brutto, quasi da dilettante, però è un portiere, quindi ce l'ho. Quindi il problema portiere secondo me verrà affrontato più verso la fine del campionato. Su Kepa vi dico che c'è stato un interessamento della Fiorentina perché è rientrato al Chelsea, il Chelsea lo vuole cedere perché va in scadenza di contratto nel 2025, si parla di 5-6 milioni per il cartellino, 9 sono però lo stipendio che prende Kepa. Non so quanto Kepa possa venire a Firenze con l'idea di venire a Firenze e farsi la Conference League dopo uno che ha fatto una mezza stagione con Real Madrid e gioca a Nicciel, si è stato pagato 80 milioni di euro all'Otratico Bilbao, quindi la buttiamo là. Capitolo portiere chiuso. In difesa è rientrato quarta, Valentini, boh, secondo me a questo punto se non è ancora arrivato o sbloccheranno la trattativa all'ultima giornata d'agosto perché a quel punto il Boca per 500 mila euro, per un milione te lo fa arrivare, tu giusto per incassare qualcosa, altrimenti lo perderà a parametro zero e quindi secondo me se arriva, arriva a fine calcio mercato, non arriva all'inizio della stagione calcistica della Fiorentina, però Valentini a gennaio comunque sarà un giocatore della Fiorentina, però in difesa siamo stracontati, va bene. In centrocampo, qui è meglio mettersi le mani nei capelli perché a centrocampo c'è solo Barak e Mandragora, siamo in emergenza, ma in emergenza piena, Palladino l'ha detto, la rosa va fatta, cioè io non posso immaginare di iniziare una stagione con Barak e Mandragora e giocarmela con Infantino, con Bianco che non sono giocatori che rientrano nel mio progetto o adattare Brecalo o Iconé o spostare quello, cioè non si può iniziare in questa maniera, dove è la parola ambizione? Non c'è ambizione, è un'ambizione ridimensionata, perdonatemi perché se non vendo non compro e questa è la realtà dei fatti, perché il problema è che lui si è venduto Milenkovic per 12 milioni di euro, però si è preso Pongracic per 16, ok? Quindi un ammanco di 4 milioni di euro. Poi si è preso Ken a 13, a 13 più bonus e quant'altro, quindi butti dentro 13 e arrivi a 27 milioni di euro. Ma guardate, è strano, sono i famosi 25 milioni che Commisso mette con la sua sponsorizzata Mediacom, ecco qua, hai già fatto, li hai già spesi, ecco perché dico che hai avuto finanziamento. Se si vende si compra, se non si vende non si compra. Ed è che qui la difficoltà di vendere la Fiorentina. Nzolà non lo vendi, Amrabat o Fenerbahce o Manchester, ma la Fiorentina vuole almeno 10-15 milioni di euro, difficilmente arrivano, forse da Fenerbahce sì, ma da Manchester no. Sabiri, io voglio sapere a chi tu lo piazzi, Sabiri, se tu lo vendi a un milione l'è grassa. Cioè, Nzolà, Ide, lo vogliono lecce Cagliari, ma nessuno parla di acquisto a titolo definitivo, si parla di prestito, qui la Fiorentina sta cercando di fare dei prestiti onerosi e non dei prestiti secchi. Cioè, capite che siamo in difficoltà per degli errori di valutazione fatti nelle passate stagioni. Ora, parlando un attimino degli affari in conclusione, al centrocampo, non vi parlo di McKennie perché lo collego sempre al solito discorso di Mosso. Su Tessman, io non capisco il perché ieri l'intermediario di mercato degli agenti di Tessman era a Giola Parche per parlare del suo assistito e di Mette Nero su Bianco e il problema è che la fumata bianca non è arrivata. Io mi domando e dico che cosa si sta aspettando. 6-7 milioni, sulle commissioni sembrava esserci una grossa accelerata, nel senso che gli agenti hanno capito che avevano esagerato, però mi aspettavo una fumata bianca ieri sera. Cioè io ieri sera mi auguravo oggi di annunciarvi Tessman e invece non ve lo posso ancora annunciare. Poi magari verrà smentito fra un'ora, fra mezz'ora o mentre vedete questo video e hanno già dato l'ufficialità. Non lo so, io me lo auguro, però Tessman piace. Secondo me è un ottimo acquisto perché secondo me è regalato a 6-7 milioni di euro perché per le potenzialità che ha il ragazzo è ovvio che deve fare la Serie A, è ovvio che è la sua prima esperienza ma avrà talmente tanta voglia che secondo me può veramente far bene. Io sono andato a vedere un po' Tessman in questi giorni nella vecchia stagione in Serie B col Venezia. È un buon centromapista. Certo la Serie B non è la Serie A, siamo d'accordo, però ha dei margini secondo me di forte crescita. Ma vai a prenderlo, prendilo. Se lo vuoi lo devi prendere. È inutile ci inceschiare dell'alto, prendilo. Quindi io mi auguro che ci siano le fumate bianche perché ieri mi aspettavo la fumata bianca. Cioè mi aspettavo che uscissero stretta di mano, dai a posto, appena ha finito la Nazionale dell'America gli si fa fare due o tre giorni di vacanze e poi ti arriva subito a Firenze. E invece niente, ancora non si sa nulla. E siamo troppo lunghi. Siamo al 3 di agosto e il 16 si parte. Cioè raga due settimane. Due settimane ci siamo lì, ma gli vogliamo far allenare un pochino insieme a questi ragazzi. Non lo so io, si dovranno conoscere un capellino. Per me secondo me Paladino è un po' preoccupato e secondo me è anche un po' stizzito perché secondo me in fase di contratto gli avevamo promesso altre cose. Vabbè, comunque. Se poi andiamo a parlare di Gudmanson, parliamo di Gudmanson ragazzi, ma sì dai, ritorniamo a parlare di Gudmanson. Tutto fatto. Ah sì, per la maggior parte delle persone è tutto fatto. È tutto fatto. Affare in chiusura, accelerata della Fiorentina, Gudmanson 5 milioni in prestito oneroso, obbligo di riscatto a 20. Tutto fatto. E di che si sta a parlare? Adesso non è fatto niente. Scusatemi. Non è fatto niente. Perché finché non avrai la certezza di dove vai a incassare questi altri soldi, non è fatto niente. Ora, su Gudmanson non mi voglio dilungare troppo perché secondo me ne sapete tanto quanto è me. A livello della situazione giudiziaria che è ragazzo, è un rischio prendersi Gudmanson proprio per questo discorso. Non sai se verrà condannato o meno. È un investimento importante. Girardino in conferenza stampa ha detto io mi auguro che resti, però le voci che sento dire purtroppo lo allontano sempre di più. Quindi che Gudmanson abbia anche chiesto o detto voglio andare via può spingere Genoa a dire ok, fra tre settimane finisce il calciomercato, più la vado, più si abbassa il valore del cartellino. Quindi se trovo una società che mi dà 25 milioni, magari non me li dà subito, ma me li dà il prossimo anno, intanto sono 25 milioni e magari non sono 20. scusate. Però diciamo che Tesman e Gudmanson potrebbero essere paradossalmente i due nuovi acquisti della Fiorentina per quello che logicamente sarebbe da fare visto tutto il tempo che ci stai perdendo dietro. Perché se devo pensare a Branks, a Lovric, a Tosved, ti dico che sono quelli più lontani perché mi sembra che non ci stai perdendo troppo tempo. Hai chiesto delle informazioni, ti hanno risposto picchi a posto, ciao, grazie. Adesso parliamo della nota dolente perché Beltran rientrerà a Firenze dopo un'Olimpiade secondo me disastrosa, partito da titolare e poi man mano rilegato in panchina. Quindi anche qui si è da fare una grande valutazione di Beltran se è veramente una punta o se è una seconda punta o se è un trequartista. Questo sarà a Raffaele Palladino un ulteriore gatto da perare. Parliamo di Nico Gonzalez e qua il mio ragionamento. Nico verrà ceduto? Sì. Non tanto perché il calciatore ha aperto la cessione ma perché la frontiera deve far cassa. Siamo in autofinanziamento. Punto e basta. Ora, non la voglio dare per certezza matematica però il mio ragionamento logico mi fa portare a dire sì, verrà ceduto. E perché verrà ceduto? Allora, se lo cedi all'Atalanta risolvi due problemi. Uno, ti prendi 20-25 milioni di euro e vai su Goodmanson e vai su Tesman li prendi subito e hai il portiere perché ti danno Musso e Musso ha aperto la Fiorentina. Se lo vende alla Juve l'idea incompatate. Ti danno McKennie lo metti a centrocampo e tu McKennie lo vuoi e McKennie ha detto sì alla Fiorentina. In più ti danno 20-25 milioni vai a prendere Tesman e Goodmanson. Capite che è una cosa logica e in più abbassi il mottengaggio perché comunque ne prende 3 e 1 o 3 e mezzo mi sembra Nico cioè è un senso logico. Chiudo dicendovi che sembra che il Newcastle sia in proscinito e pronto a fare un'offerta a mostre di 40 milioni di euro alla Fiorentina per assicurarsi le prestazioni di Nico Gonzalez. A questo punto io preferisco venderlo al Newcastle mandarlo in Premier mi prendo i 40 e mi compro i giocatori che mi servono perché con 40 milioni li prendi tutti comunque prendi Tesman prendi McKennie e prendi Goodmanson. In più vi dirò potresti prendere a fine calcio-mercato Berardi che torna di nuovamente in nome Berardi che sta solo ha chiuso non rimarrà in Serie B è un giocatore che si infortuna spesso però però avendo Goodmanson e tenendoti con E e poi con un grande punto interrogativo su Kwame che potrebbe rimanere e fare quindi o l'attaccante o l'esterno al posto di Sottil il reparto offensivo sarebbe sistemato e anche quello di centrocampo dove a quel punto avendo Tesman McKennie Barak Mandragola e magari a quel punto puoi valutare un ragazzo come Bianco e dici me lo tengo diciamo che potremo iniziare a ragionare su una rosa paradossalmente completa per la stagione. Ragazzi come sempre Forza Viola domani attivissimo sui miei profili perché sarò a vederla a Viola Park Fiorentina-Mompili e vi darò le mie sensazioni di come siamo messi a due settimane dall'inizio della stagione della Fiorentina che ad oggi non mi sembra tanto messa bene. Grazie a tutti.